Oh no, è chiuso! Non siamo giocattoli da zero a cinque anni, sappiamo leggere. No, sei in Italia, abbiamo una tonnellata di giocattoli... Va bene, va bene, arrivo! Avanti, andiamo! Ma il cartello indica che è chiuso! No, 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 tutti insieme! Ora! Vuoi sconfiggere Zurg? Ti svegliamo i segreti! Per la Peppina, come faremo a trovare Woody qui? Cerchiamo Al, trovato Al, avremo trovato Woody. Sparpagliatele! Ok Buzz, stavolta abbiamo degli stivali super veloci! Da questa parte, Buzz! Spargo! Spargo! Grazie a tutti. 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 a tutti. verso l'infinito. a tutti.